Sì, l'officina pedali si muove molto sui social. Ormai al giorno d'oggi tutti cercano gli orari, cercano i servizi, li guardano tutti sullo smartphone e ci chiedono poi dopo se abbiamo dei motivi particolari. Chiaramente mia moglie gestisce tutto quello che riguarda le foto, i social, i post e quant'altro. Noi gli diamo gli spunti, quando usciamo in bici facciamo tante foto, facciamo vedere che siamo sempre insieme, siamo una bella comunità nella squadra e quindi sponsorizziamo sui social tutto quello che facciamo. Commercialmente ci aiuta molto stare molto sui social perché la gente ci guarda sempre, quindi vede che noi siamo sempre attivi e quindi diventano curiosi di quello che facciamo e vogliono partecipare anche loro alle nostre attività. Per chi ci vuole venire a trovare e non guarda sui social, siamo a Ravenna, a Madonna dell'Albero, in piazza Ambrosoli 1.